Comunque qua il video ha 4 minuti eh, non 12. Comunque qua il video ha 4 minuti eh, non 12. Comunque qua il video ha 4 minuti eh, non 12. Comunque qua il video ha 4 minuti eh, non 12. Comunque qua il video ha 4 minuti eh, non 12. Comunque qua il video ha 4 minuti eh, non 12. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.